Il calcio di tutti l'anno scorso è stato fondamentale, il prossimo anno ci saranno delle sorprese scopiettanti. Sì, questo programma, io sono subentrato come opinionista, da un'idea di Daniele Emanuelli, che è un giornalista che si occupa soprattutto della Serie D, un grande successo inaspettato, tante realtà, abbiamo doppiato tante realtà da nord a sud, tanto consenso, tanti messaggi da parte di tutta Italia, lo riproporremo con una nuova versione aggiornata, ci sarà un'applicazione ufficiale. Io rimango come opinionista, sono tante realtà, aumenteremo anche le squadre a nord a sud e credo che sarà uno dei format più innovativi perché la Serie D rappresenta il punto cruciale del calcio italiano.